Ancelotti polemico per il rigore concesso a Napoli. Chiellini ha ragione. È assurdo. Vedi letture Giorgio Chiellini da motivo Carlo Ancelotti questa sera non è stato concesso un rigore. A Napoli nella sfida che ha visto il Real Madrid vincere 32 Maradona. A mio avviso ha detto il difensore collegato allo studio Sky Ancelotti ha ancolato gli episodi. Bene. Sulla penalità che sono d'accordo. Come difensore è assurdo. Sei su un rimbalzo. Il braccio è un po' alto ma la palla colpisce prima il piede. Quindi ha aggiunto ha cambiato un sacco modo di difendersi da quando ho iniziato. Ora devi essere più pulito e scivolare sempre con le mani dietro la parte posteriore anche al costo. Fare movimenti innaturali. Ogni tocco minimo nell'area può girare nella penalty.